Sono riprese con la consueta carica di coinvolgimento le passeggiate del gruppo avventura. Semplicità e voglia di stare insieme ammirando il territorio sono gli ingredienti che stanno portando il gruppo ad esplorare l'alto tirreno cosentino tramite la pratica sportiva. Un gruppo aperto a tutti che si basa molto sulla condivisione social degli itinerari e delle esperienze con scampagnate anche impegnative che si concludono sempre con un momento conviviale o il classico pranzo al sacco oppure la sosta all'agriturismo al ristorante che si incontra per strada. Domenica scorsa il programma delle escursioni è ripreso con un itinerario che ha portato la carovana ad Orso Marso fino all'eremo di San Nilo, una scampagnata che ha condotto i partecipanti a godere di una visione nuova del territorio favoriti anche dalla giornata di sole. Un'esperienza aperta e adatta a tutti durante la quale conoscere persone nuove e apprendere anche qualche particolare relativo ai luoghi e alla loro storia e ovviamente sbizzarrirsi con foto da condividere poi sui social. L'idea che si ispira è che apre anche a percorsi turistici dedicati agli amanti della natura, scoprire i luoghi e conoscerli è il presupposto per raccontarli a chi viene da altri posti per poter apprezzare anche altri aspetti del territorio che non siano soltanto il sole e il mare. Percorsi che dessagionalizzano e che costano poco a chi li affronta e a chi li organizza, basta una dose di buona volontà, un po' di tempo da dedicare a se stessi e gambe in spalla.